Musica Meno leggi ma più chiare ed efficienti dovrebbe essere una delle priorità dei prossimi eletti secondo Carlo Nordio oggi a Cividale per l'ex fest E in apertura del festival Balloc parla della sua esclusione dalle liste, resto sindaco e in forza Italia dice ma critico la mancata trasparenza Tanta neve in montagna, un po' anche sul Carso, a sella neve all'altezza del manto nevoso ha toccato i tre metri e mezzo Seduta tattica sotto la pioggia per l'Udinese in vista del Milan, imminente la presentazione di Zampano in diretta su Udinese TV Musica Buon pomeriggio dalla redazione di Udinese, ben trovati a questa edizione meridiana del nostro TG Che inizia parlando dell'ex fest, il festival che da qualche anno si tiene a Cividale e richiama sempre nomi molto importanti del mondo della magistratura Ma anche del giornalismo e proprio da Cividale abbiamo in collegamento con noi Davide Zanirato Buongiorno Davide, a te subito la linea Buongiorno Angela, ben trovati da Cividale del Friuli Si è aperta stamattina la terza edizione di Lex Fest Il festival dedicato alla giustizia, agli operatori del diritto e dell'informazione Durerà fino a domenica tanti nomi protagonisti di questi confronti, di questi dibattiti A partire dal presidente onorario di Lex Fest, il magistrato Carlo Nordio Che abbiamo avvicinato proprio stamattina A lui abbiamo chiesto innanzitutto quali dovranno essere i temi legati al mondo della giustizia Presenti nella prossima agenda politica del nuovo Parlamento Ma abbiamo parlato anche con lui della freschissima nomina presidente della giuria del premio Campiello Sentiamo dunque Carlo Nordio Molte cose, una maggiore efficienza che vuol dire leggi più chiare e meno numerose Rapporti con la stampa più definiti Attenzione ai diritti costituzionali del cittadino e soprattutto alla privacy Limitazione delle conversazioni intercettate e divulgate Eliminare il pernicioso pregiudizio che l'informazione di garanzia sia un elemento preclusivo all'attività politica Perché molte indagini nascono e finiscono dopo aver magari compromesso l'agibilità politica di molte persone Insomma tutta una serie di cose che visto il parterre de roi che abbiamo di partecipanti Veramente straordinario, penso sarà oggetto di un dibattito estremamente interessante Una doverosa chiusura perché questa è la sua prima intervista anche da presidente della giuria del premio Campiello Innanzitutto complimenti, com'è accolto questa nomina? Beh con grande orgoglio e con grande piacere Aggiungo che a me piace leggere e scrivere Però vi è una connessione anche con il mio antico mestiere Perché secondo me un magistrato deve essere essenzialmente un uomo di cultura Perché la cultura è l'unico elemento che ti fornisca le due dotti secondo me fondamentali per un magistrato Che sono l'umiltà e il buonsenso L'umiltà perché quando tu leggi tanto capisci che non sai niente e quindi ti ridimensiona molto E il buonsenso perché è soltanto dai saggi del passato che puoi cercare di comprendere il presente E orientarti nel futuro Non si insegna una scuola queste dotti Te le insegna soltanto una sedimentazione di elementi culturali Quando io mi sono licenziato, quando ho dato l'arrivederci, il saluto ai miei colleghi Soprattutto quelli più giovani l'anno scorso Ho suggerito a loro di leggere una tragedia di Shakespeare in più e un libro di diritto in meno Perché da una tragedia di Shakespeare si capisce la natura umana molto di più che leggendo una biblioteca di diritto Questo è dunque le parole di Carlo Nordio Che tra l'altro sarà protagonista in tutte queste tre giornate con diversi appuntamenti e lezioni Inevitabile però oggi non parlare appunto di politica Perché? Perché è stata la prima uscita pubblica di Stefano Ballo, il sindaco di Cividale Dopo l'illustre esclusione dalle liste per il Parlamento di Forza Italia Ballo, chiarito, che ha voluto parlare proprio oggi per la prima volta davanti ai suoi concittadini Ha spiegato di essere stato sicuro di essere in lista fino alla vigilia del deposito delle stesse in corte d'appello E poi naturalmente è successo quello che abbiamo saputo, la sua esclusione al suo posto è stato indicato dal MAS Ma che cosa succede ora? Ce lo dice lo stesso Balloc Che succede adesso? Adesso succede che il vostro sindaco rimane al suo posto Sono qui come del resto avevo scelto di fare Escludendomi dall'eventuale corsa al seggio di consigliere regionale Diversamente da come altri hanno fatto Così come resterò dove sempre sono stato In Forza Italia, al fianco di Silvio Berlusconi Anche in questa campagna elettorale C'è una cosa che voglio dire però Forse nel nostro partito è mancata un po' di trasparenza I miei genitori mi hanno insegnato quanto importante sia l'integrità Quanto importante siano l'integrità, l'onestà, il rispetto per gli altri, il valore del sacrificio e del lavoro L'aver appreso a tarda notte quando le liste erano ormai chiuse e stavano per essere depositate Che qualcosa era cambiato senza confronto Non mi ha fatto riconoscere il nostro modo di fare La politica che appunto conosciamo Sono certo che d'ora in poi i processi decisionali e le scelte che faremo siano sempre nitide e chiare In modo che i cittadini ne comprendano il senso profondo e le possano dunque valutare Queste dunque le parole di Stefano Balloc, primo cittadino di Cividale Tornando invece all'ex fest, nel pomeriggio è atteso il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini E poi il giornalista Luca Telese Mentre per quanto riguarda il programma di domani è confermato il confronto tra Enrico Mentana Direttore del Tg di La Sette e Tommaso Cerno, già con Direttore di Repubblica E candidato proprio alle prossime elezioni politiche Da Cividale è tutto, grazie anche a Fabio Di Bernardo A te Angela Grazie, grazie a Davide Zanirato per questo collegamento Noi proseguiamo il nostro Tg con la politica Perché sono stati diffusi i dati dell'ultimo sondaggio realizzato da SVG E contenente le indicazioni di voto degli elettori Sondaggio che vede il centrodestra ancora in testa con il 36,2% Segue il Movimento 5 Stelle con il 28,4% primo partito Quindi la coalizione guidata dal PD con il 28,1% E liberi e uguali al 6% Per quanto riguarda i partiti del centrodestra Abbiamo Forza Italia al 15,9% Lega al 12,9% Fratelli d'Italia al 5,1% Noi con l'Italia Udc 2,3% E a proposito di elezioni e di liste per le prossime politiche A Udine il Carroccio ha presentato questa mattina i suoi candidati La Lega schiera come capilista alla Camera Massimiliano Fedriga e al Senato Mario Pittoni Oltre a loro altri sette candidati Evani Agava, Massimiliano Panizzutta, Aurelia Bubisutti E poi ancora Raffaella Marin, Lorenzo Tosolini, Federica Cellini e Daniele Moschioni Divisi fra i collegi uniluminali e il proporzionale Monica Nardini ha raccolto le interviste ad alcuni candidati Che nel loro programma mettono in primo piano L'abolizione della legge Fornero La lotta all'immigrazione Più sicurezza, più lavoro E tutela delle specificità del territorio Questi i principali punti del programma Sentiamo Io sono tutte le candidature del territorio Non abbiamo come altre forze politiche in Frivenenza Giulia Paracarutati dall'esterno Sono tutte persone che rappresentano il Frivenenza Giulia Anzi diversi territori di Frivenenza Giulia In ogni collegio della Lega Ci sono persone che rappresentano Quello specifico territorio E questo è il valore aggiunto Perché vorremmo far vedere che la politica è legata Alle comunità che rappresenta E i collegi non vengono invece utilizzati soltanto Per garantire il posto a qualcuno Lei comunque è in corsa anche per le regionali Non ha posto veti alla candidatura di Riccardi Ma insomma si attende la decisione in merito Quando arriverà chi riuscirà a sbrogliare la matassa? Mi auguro il prima possibile Detto questo non siamo soltanto io e Riccardi Possibili candidati Ma penso che la rosa di nomi sia più ampia Ed un fatto positivo perché il centro-destra dimostra Che ha tante persone che possono competere Per fare il presidente di questa regione Perché ha tante forze in campo Ci muoveremo sulla base del buon senso E uno dei nostri slogan principali Recita appunto la rivoluzione del buon senso Per quanto mi riguarda Avevo lasciato a metà una riforma che ritengo importante Che è quella dei meccanemi di assunzione degli insegnanti Che intendo portare a livello regionale È importante soprattutto per la nostra regione Perché le indagini internazionali Parlano dei nostri studenti come dei migliori d'Italia O comunque ai primi posti Offrirebbe probabilmente la possibilità Finalmente di avere spazi importanti nel mondo della scuola La Repubblica ha diffuso i dati sull'analisi Che vede il centro-destra in vantaggio In molti collegi alla Camera Anche a Udine Come commentiamo questi dati? Ma io di solito questi vantaggi Che dice la stampa Neanche non li guardo Non li prendo in considerazione Perché ritengo che il cittadino Come ho detto prima È stufo di quello che sta succedendo Di come siamo stati governati E quindi bisogna andare sul territorio Queste dunque le interviste raccolte da Monica Nardini Noi proseguiamo adesso La nostra pagina politico-amministrativa Con il rapporto sul coordinamento Della finanza pubblica per il 2017 Il rapporto della Corte dei Conti Della sezione del Friuli Venezia Giulia Che è stato presentato oggi in Consiglio regionale Emergono a ogni livello La penetrante incidenza delle riforme in atto Sugli assetti istituzionali e organizzativi Degli enti regionali Scusate le correlate problematiche di sistema Oggettivamente complesse Che debbono essere avviate a soluzione Questo il commento della sezione regionale di controllo Del Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti Che ha aggiunto particolare attenzione Va riservata al livello degli enti locali Che finora, tranne isolate eccezioni Non ha presentato casi di grave deficitarietà finanziaria Proprio per salvaguardare questa virtuosa caratteristica Delle autonomie locali È indispensabile, dice la Corte dei Conti Cogliere tempestivamente i segnali di debolezza Che provengono dagli enti E dare loro un'adeguata risposta Che presuppone una generale chiarezza e consapevolezza Circa la funzione che ogni soggetto coinvolto Dalla gestione è tenuto a esercitare Con professionalità e secondo costruttive logiche di confronto Questo è il parere della magistratura contabile Del Friuli Venezia Giulia Sono aumentati a gennaio dello 0,3% I prezzi al consumo nella città di Udine Lo rende noto l'ufficio statistica comunale Rispetto a un anno fa L'aumento tendenziale dei prezzi è dello 0,6% In un mese sono aumentate in particolare Le voci abitazione e utenze Più 1,3% Le diminuzioni riguardano invece i trasporti Meno 1,3% E servizi sanitari e salute Meno 0,1% A livello tendenziale Ovvero rispetto al mese di gennaio dello scorso anno Gli aumenti maggiori sono alle voci abitazioni e utenze Più 1,9% E trasporti più 1,8% In diminuzione istruzione Meno 13,8% E comunicazione Meno 0,8% E come annunciato dai meteorologi dalla serata di ieri Abbondanti nevicate stanno interessando l'area montana del Friuli Venezia Giulia In particolare le Alpi Giulie A Sella Nevea sono caduti 74 cm di neve fresca Portando l'altezza del manto nevoso a 3,5 metri Tanta neve dunque sul rifugio Gilberti Come abbiamo visto nelle foto precedenti postate sulla pagina facebook del rifugio stesso Mezzo metro di neve fresca anche sul Matajur, sul Gran Monte e sulla Comizza A Tarvisio a causa delle ultime nevicate è stata annullata l'apertura notturna della pista di Prampero Neve in montagna ma anche sul Carso È di un'ora fa circa un tweet della protezione civile del Friuli Venezia Giulia Che segnala appunto una nevicata sull'altopiano carsico Nessuna segnalazione di disagi Aggiunge la protezione civile Mezzi pubblici operativi e spargisale in azione L'invito è comunque quello di prestare la massima attenzione negli spostamenti su tutte le zone Anche sul Carso dove appunto sta nevicando queste le immagini che sono state allegate al tweet Della protezione civile delle 12 e 30 Vediamo appunto questa nevicata abbastanza importante e significativa anche sulle strade del Carso Ed ecco il tweet della protezione civile Adesso cambiamo decisamente argomento e apriamo la nostra parentesi dedicata all'approfondimento con l'ospite in studio Oggi con noi abbiamo Maria Beatrice Bertone Buongiorno e benvenuta direttore del Museo del Duomo di Udine Per parlare di una serie di iniziative che sono state messe appunto in occasione della festa di San Biagio Che si celebra proprio domani San Biagio che tra l'altro un legame con la neve ce l'ha in qualche modo Dottoressa Bertone mi diceva prima a microfoni spenti che c'è un detto in Friulano C'è un detto che San Biagio se trova la neve la disfa Se non c'è la porta La porta Quindi decisamente siamo in tema abbastanza Malgrado le condizioni meteorologiche non siano sempre molto alterate ormai nelle stagioni Però ci stiamo dentro Questo detto conferma insomma anzi l'andamento del tempo di questi giorni conferma Questo antico adagio come si dice Ci sono tanti altri proverbi legati alla figura di San Biagio Cui tra l'altro il Museo del Duomo dedica un'attenzione particolare Cosa avete organizzato per questi giorni? Come ogni anno abbiamo sempre presentato degli eventi Che avessero una relazione con la Chiesa di Santa Maria di Castello Dove si commemora il Santo per tradizione Però quest'anno la Chiesa è chiusa in questo periodo Fino all'estate del 2018 per i lavori di restauro in corso E quindi abbiamo diciamo mosso un po' le posizioni per la commemorazione In ambito della cattedrale e delle chiese della parrocchia La cattedrale comunque ha dedicato già dal 2017 spazio e visibilità a San Biagio Con l'intervento di restauro che è stato presentato a luglio Sono le immagini della mostra che abbiamo visto prima che possiamo rivedere Sono le immagini della scultura molto importante e significativa Che è appunto stata recuperata con questo restauro Grazie all'intervento soprattutto di privato Che ha dato molto lavoro e che ha dato soddisfazione per quello che è stato il recupero L'interesse per la Chiesa rimane appunto anche in questa Proprio in questa Questo 2018 per la festa di San Biagio E abbiamo intenzione, sì abbiamo preparato questi eventi Che sono relazionati sia alla figura di San Biagio che a quelle che sono le opere della Chiesa Le opere della Chiesa in particolare quelle mobili Ossia quelle che durante il restauro hanno necessità di essere messe in sicurezza E quindi sicurezza anche dal punto di vista conservativo E quindi sono state collocate nell'ambito del museo In una disposizione che abbiamo chiamato tra le sculture di Santa Lunaria di Castello E che sono appunto di interesse E così si ricorda anche quello che è la Chiesa Malgrado sia chiusa al pubblico per le visite consuete Generalmente l'impartizione della benedizione della gola Veniva fatta proprio nella Chiesa di Santa Maria di Castello Esatto e quindi quest'anno invece le terremo nella giornata del 3 Quindi di sabato domani E avranno luogo alle 10 di mattina nella Chiesa di San Giacomo E poi ci sarà nel pomeriggio alle 3 Alla Chiesa della Beata Vergine della Purità All'Oratorio della Purità L'altra messa che quindi ci sarà la benedizione In tutte e due le cerimonie E ci sarà la benedizione Anche quindi questo momento che è particolare Perché ricorda la protezione di San Biagio Per le malattie e per la gola Ricordiamo, dottoressa Bertone, in chiusura Velocemente anche i due appuntamenti di questo pomeriggio Alle 17.30 e di domani alle 11 Un flash Un flash brevissimo Sulla conferenza di oggi Che è alle 17.30 nel museo E si terrà la presenza del dottor Paolo Casadio Che presenterà gli affreschi della Cappella dei Coloniani Che sono nati molto interessanti Anche per questa relazione Dal punto di vista della storia della Chiesa Del castello E di quella che è un po' lo sfondo Alla scultura di San Biagio Che abbiamo in mostra E quindi sarà molto interessante Scoprire certi particolari Riguardo a quella che è un po' l'iconografia del castello In ambito medievale Che è piuttosto rare Proprio in questi affreschi Viene rappresentata precisamente Prima del 1511 Quando ci fu un totale terremoto Che distrusse quelle che erano le frattezze Domani mattina presenteremo Il restauro Che è un progetto di restauro Dedicato alla Dormizio Virgine Si è un'altra scultura Linea proveniente dalla chiesa di Santa Maria di Castello E insieme alla dottoressa Lucia Sartor Tratteremo quella che è l'iconografia Della Dormizio Virgine Che è abbastanza rara In ambito locale E presenteremo quello che è il restauro Che è stato un po' avviato Nella parte della diagnostica Grazie anche alla collaborazione Diciamo spontanea Della diaree di Mago di Udine Che abbiamo potuto fare Quindi quella parte iniziale di diagnostica Che riguarderà il restauro dell'intervento Perfetto Un'occasione dunque Per andare a scoprire Questi tesori Che sono custoditi Nel cuore Della nostra città Grazie Alla dottoressa Maria Beatrice Bertone Per essere stata con noi oggi Buon lavoro Grazie E noi adesso Andiamo subito Alla Dacia Arena Dove vedo già pronto Per il nostro consueto Collegamento Stefano Giovampietro Stefano a te la lina Per tutti gli aggiornamenti Sì Ciao Angela Siamo qui nella sala stampa Della Dacia Arena Si è conclusa questa mattina La seduta del venerdì Come al solito Seduta molto tattica Quella dell'Udinese Sotto la pioggia Battente del Bruseschi I giocatori che sono usciti Dall'allenamento Infangati Dalla testa Ai piedi Hanno lavorato molto Ci sono anche delle foto Sui social Che li ritraggono Proprio sporchi Ve le faremo vedere Nel corso della nostra Programmazione Una seduta di allenamento Che ha chiarito Sicuramente qualche dubbio Di formazione A Oddo Che però ci penserà Anche nella giornata Di domani Anche per sostituire Lo squalificato Samir E c'è in pole position Angela Per giocare lì Occhio però anche Alla candidatura Di Struger Larsen Che si gioca il posto Sulla destra Anche però Con Widmer Di certo ci sarà Il rientro di Barak Vedremo Se sarà confermato Berami davanti Il solito bagottaggio Con Maxi Lopez E De Paul Che si giocano Una maglia Per affiancare Lasagna Sulla sinistra C'è un altro ballottaggio Perché Pezzella Non è al meglio In questa settimana Si è allenato spesso A parte E c'è Zampano Che concorre Per quel ruolo Oggi è la giornata Di Zampano Vi facciamo vedere Anche in anteprima Quella che sarà La maglia Che utilizzerà A breve Fra pochi minuti Per fare le foto Di rito Con il numero 11 Zampano è arrivato Dal Pescara Prestito con Diritto di riscatto E questa è l'operazione Che ha chiuso La dirigenza Dell'Udinese Per regalare a Oddo Un giocatore Che potesse districarsi In entrambe le fasce Destra e sinistra Curiosa La scelta Del numero 11 Un numero Quello accompagnato Nella sua finora Breve carriera Che recentemente Non ha portato Grandissime fortune Ad Alberto Pegnaranda Se vi ricorderete Però l'11 È un numero Che nella memoria Viene legato A quello di Maurizio Domizzi Che qui ha scritto Pagine importantissime Di storia bianconera Quel Domizzi Proprio che gioca Con il fratello gemello Di Zampano Francesco Che si chiama Giuseppe Ed è a Venezia In serie B Gioca proprio Con l'ex bianconero E cerca la serie A Magari si potranno Rincontrare L'anno prossimo I due fratelli Su dei campi di serie A Glielo auguriamo A Giuseppe E anche a Francesco Che qualora venisse Confermato Resterebbe qui A Udine Oggi le sue prime parole In diretta Come al solito Su Udinese TV Alle 14.30 Quindi da non perdere La presentazione Di Zampano Ultimo acquisto Della sessione Del mercato di gennaio Dell'Udinese Linea a te Angela Grazie Grazie a Stefano Giovampietro Per questi aggiornamenti Allora in attesa Della conferenza stampa Per la presentazione Di Zampano Noi ci salutiamo qui Spazio alle previsioni Del tempo Per tutto il fine settimana A cura oggi Del direttore Dello Smerarpa Stefano Micheletti Grazie per la vostra attenzione E buon proseguimento Di giornata Su Udinese TV La giornata di oggi Continuerà con cielo coperto Su tutto il frio di Venezia Giulia E precipitazioni Quindi pioggia ancora Sulla costa E sulla pianura Generalmente deboli O moderate Nevicate in montagna Complessivamente moderate Solo localmente Più abbondanti Di nuovo Sulle zone orientali Verso la Slovenia In particolare Sulle Alpi e Prealpi Giulie Le nevicate tenderanno Ad attenuarsi E poi smettere Nel pomeriggio sera Sulle nostre montagne Tranne che sul Tarvisiano Dove probabilmente Continuerà a nevicare Fino a questa sera Dall'altra parte Sulla costa E sulle zone orientali Comincerà a soffiare Vento di bora Nel corso della giornata Che poi tenderà A rinforzarsi Verso sera Domani sarà ancora Una giornata Con cielo da nuvolosa Coperto sul friuli Venezia Giulia Localmente coperto Quindi un certo Miglioramento Potrebbe vedersi Anche del sole Ma relativamente poco Ci saranno ancora Delle piogge Sulla pianura E sulla costa Debole o moderate E ci saranno ancora Qualche nevicata In montagna Specialmente Sulle zone orientali Che arriveranno Fino in fondo valle In questo caso Perché la temperatura Tende un po' a scendere E potrà esserci Della neve Anche sulle zone Più alte del Carso La bora Che ancora soffierà In mattinata Abbastanza forte Poi nel corso Della giornata Tenderà ad attenuarsi Domenica Un certo miglioramento Dovremmo avere Una bella giornata Complessivamente In montagna Con un cielo Generalmente poco Nuvoloso Sulle montagne Friulane E sulla pianura E sulla costa Potrebbe esserci Un certo rientro Di nuvolosità Dal mare Quindi diciamo Un cielo variabile Solo localmente Nuvoloso Ma non dovrebbero Eserci Precipitazioni Sarà una giornata Un po' più fredda E con rispetto ad oggi Avremo un 2-3 gradi In meno